Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale come velox oggi sono qui ragazzi e portarvi un nuovo video su black ops 3 in cui voglio mostrarvi l'unica cosa che ho trovato nell'ultimo pack opening che non ho registrato non li recco più i pack opening su black ops 3 ovviamente però l'ultimo pack opening di 40 euro che ho fatto diciamo off camera per trovare le nuove armi ma che in realtà poi non ho trovato trovando soltanto appunto questo ovvero la mimetica non mi ricordo mai il nome ragazzi vi giuro la mimetica come cazzo si chiama empire ecco una mimetica stranissima ragazzi in movimento cioè animata che è veramente bella cioè è affascinante come la novata cioè una mimetica boh cioè appunto imperiale quasi no perché così dorata con tutti questi disegni che ricordano un pochettino magari il lusso non lo so ragazzi avete capito cosa intendo è figa è bella mi piace come medica quindi ho detto vabbè ci facciamo un videozzo gliela mostro anche perché se no dai cazzo ho spacchettato 40 euro per trovare una cosa che poi magari di meno ho la possibilità di mostrarvi no vabbè ve la mostro almeno questa qua c'è giusto per autoconvincermi di aver speso bene i miei 40 euro che invece no sono stati miseramente buttati nel cesso come ogni volta che apro delle casse su qualche videogioco online a meno che poi non mi capiti di farlo su giochi tipo per pc dove trovo delle skin che posso rivendere lì invece non sono mal spesi ecco però vabbè tipo una volta su adesso non c'entra un cazzo su account 1z1 che è un gioco per pc moltissimi lo conosceranno avevo trovato un casco di un gorilla che valeva all'epoca tipo 100 euro con una casa gratis ero abbastanza contento però siccome sono stupido non l'ho venduto ho detto minchia mi porterà sicuramente fortuna raga non carica la mimetica cioè questo è un video per mostrarvi la mimetica non carica la mimetica uccidiamoci che devo fare non la carica raga ma che cazzo è vabbè facciamo qualche kill magari la carica da dopo c'è allucinante assurdo infatti ce la giochiamo col remake della 94 raga avrei voluto a eccola qui ragazzi guardate un po' però è la caricata male tutta sfocata raga non so perché mi sta sparando uno ehi avrei voluto mostrarvelo nel nel nuovo msmc ma purtroppo non l'ho trovato o cazzo vabbè questo mi tira un colpo guardate che figa però ragazzi è molto bella a me piace un sacco sinceramente è proprio se una cosa mi metti che è appunto dorata però più particolare con dei disegni particolari no ma mia non devo star ma da una vita raga che cazzo fa sto tipo no merda che cosa sta facendo allora raga cerchiamo di vincere questa parete intanto per il bene della mimetica in onore della nostra mimetica no ma fanculo della nostra mimetica empire tra l'altro ho notato che ho trovato tutte le mimetiche edizione limitata io le ho tutte sapete tutte quelle mimetiche tipo questa appunto che hanno una scadenza no che dopo un tot periodo non le puoi più trovare qui ce le ho tutte a difenza delle armi che prima avevo tutte ora non ho più non ce le ho proprio più ormai 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 me ne mancano un sacco raga ma cioè boh su black of steel veramente per trovare un'arma devi spendere 10.000 euro è assurdo ormai con tutte le armi che hanno aggiunto veramente ormai per poter trovarne una che ti manca devi spacchettare troppo io non capisco cioè tempo fa avevano messo la roba che avevi più probabilità di trovare le cose che ti mancavano e ora poi la hanno tolta perché io veramente da tantissime volte che spacchetto con la spazza di trovare qualche arma nuova e non la trovo mi fa troppo incazzare questa cosa raga troppo troppo cioè ora come ora visto che bio 3 uscita tantissimo dovrebbero metterle gratis le armi nuove invece no non solo non le mettono gratis ma non le trovi porca puttana c'è proprio non le puoi trovare e io mi chiedo perché c'è non è bella come cosa è uno sciacallare sul nulla veramente basta almeno a quelli tipo me o comunque tutti quelli che sono stati costanti tutto l'anno agevola lì non lo so fai qualcosa facci niente boh proprio dissanguarti per trovare un'arma che poi non è niente è una cosa che è una cosa virtuale ok magari spendere qualche euro no ma è 20 euro che già tantissimo per una cosa online però ognuno fa quello che vuole chiaramente ho speso di più però c'è ora come ora veramente ne devi spendere tantissimi ma soprattutto per un gioco vecchissimo è quella la cosa che non capisco io lo faccio perché comunque sono curioso di provarle raga le armi perché comunque mi va di mostrarvele tutto però obiettivamente capisco che chi magari fa un po più fatica a stare lì a comparare i punti eccetera e non ha nemmeno motivo di farlo perché no appunto magari non fa video altro cioè sono delle spese folli inutili soprattutto che ti fanno soltanto incazzare obiettivamente perché dopo un po ti incazzi ovviamente però vabbè chiudendo questo discorso ragazzi come invece c'è sta partita star ma era da un po' che non la utilizzavo veramente bella mi ero dimenticato la sua potenza letale c'è qualcuno qui no no non c'è nessuno potrebbe esserci qualcuno comunque in zona infatti ha salito uno là in alto no dai live porca puttana c'è ne piazzi sei oh sì oggi i colpi mi stanno entrando proprio divinamente non so per quale motivo godo dai entra qua no ha capito che ma da dove è entrato raga cioè c'era il mio live nella porta vabbè sti gazzi non ho capito da dove è entrato c'è lui in chiaro moriva sto qua dai affaccio ti lo so che sei no non lo no era sotto raga non l'avevo visto vabbè in parete è andata al meglio per ora stiamo dominando quest'arma non delude quasi mai raga veramente fortissima comunque ovviamente ditemi cosa ne pensate di questa animetica raga fatemi un vostro parerino aspetto come sempre i vostri commentini qua c'è qualcuno che salta che sta fuggendo muore ma anche una kill raga una kill lozza con l'ultima kill della animetica empire let's go ragazzi niente video finisce qui spero che avete apprezzato ditemi cosa ne pensate ovviamente ripeto di questa animetica qua e se l'avete trovata se siete scuolati come me anche se sono sicuro che questa animetica si trova abbastanza facilmente quelle limitate si trovano molto facilmente a differenza delle armi quindi fatemi sapere raga ci becchiamo alla prossima bella ciao ciao ciao